Musica Papà dovrai usare anche tu la mitragliatrice, sta pronto! A ore undici! A ore undici! Perché? Che succederà alle undici? 12, 10, 11, a ore undici papà! Fuoco! Junior ma qui stanno cercando di ucciderci! Lo so papà! È una nuova esperienza per me! A me capita sempre! E ringraziamo Indiana Jones e David Jones Senior Kate Mauri!